Ciao ragazze, oggi vi parlo del catalogo di Campania 14, quindi vi parlo di più di più delle offerte presenti su questo catalogo. Il catalogo è questo, dove c'è Annalisa, la cantante, dove vi accompagna per tutto il catalogo, perché vi spiega un po' quali prodotti li utilizza, perché li utilizza, insomma, ecco se è così, c'è una breve descrizione per chi utilizza appunto questi prodotti. Innanzitutto le dice che è orgogliosa di far parte di Avon, infatti sponsorizza questa bellissima palette che vedremo nel dettaglio all'interno e per chi appunto vuole sapere un po' di cose di più di questa palette può andare anche sul video dell'anteprima. Allora, il catalogo è a doppia, vedete, qua è successo che è un incidente. Insomma, qui c'è Annalisa, che dice ho scelto Avon perché mi piace andare oltre il concetto di bellezza. Allora, da me si spedisce il 27 ottobre e i prodotti arrivano il 3 novembre, quindi è molto molto veloce. Qui spiega un po' Annalisa, dice che piace Avon perché è un'azienda leader nel campo della bellezza e ha prodotti innovativi, scusate, offre concrete possibilità di realizzazione delle donne e promuove valori importanti legati al valore della figura femminile. E qui spiega, vedete, nelle varie pagine a partire, i prodotti perché li utilizza. Allora, invece in copertina troviamo i tre bellissimi profumi, il Rare Amethyst, il Rare Gold e il Rare Perse, che cambiano appunto packaging. Appunto però chi mi ha seguito in anteprima saprà. Allora, premiamo il catalogo con questa bellissima palette, che molte persone già me l'hanno richiesta, credo due persone, due persone. Però una è pure incerta, però deve vedere un po' gli ombretti come sono. Allora, in breve descrizione la palette contiene 55 ombretti, quindi 45 sono questi e 10 nude, 10 rossetti paragloss, 4 blush e i vari pennellini. Come poterlo prendere? Allora, ordinate due prodotti da pagina 4 a 21 e potete avere questa palette a 19,90. Allora, prodotti, io allora vi faccio vedere i prodotti da pagina 4 a 21 e poi le varie offerte. Allora, ci saranno i gel finish a 1,95, quindi troppo fighi ragazzi. I gel finish sono veramente dei smalti effetto gel 5 in 1 perché danno luce intensa effetto gel, fungono da 3 in 1 base e colore top coat. È un colore intenso, non necessita appunto dell'asciugatura con lampo d'ovv. Finito, lo professionale a casa. Ovviamente non è che è un effetto proprio, però è bello, lucido, duro molto, quindi molto carino. Poi abbiamo i due prodotti in edizione speciale, i bubble bath a 3,50 euro, le maschere a 1,95, compresa quella nuova al cioccolato, sempre prodotti nuovi di Naturals, ma no. Creme per il corpo di Avon Care, prodotti per capelli, profumi per uomo sportive per donna e derolonna a 1,95, sia maschili che femminili. Poi passiamo alle offerte, diciamo più che io ho selezionato, per appunto poter vendere alle clienti. Allora, il set stile. Cos'è questo set stile? A solo i 9,95 euro potete avere questi due prodotti, il profumo celebre e il blush in perle. Poi invece, voltando pagina, quindi a pagina 24 e 25, possiamo avere questi reggiseni essenziali a 7,95, mentre a pagina 26 e 27 possiamo avere invece gli altri, quelli un po' in pizzo, quindi molto più carini, multi-way con le spalline rimovibili, quindi a 10,95. Invece a pagina 28 e 29 abbiamo gli slip, quindi a 4,95, abbiamo quella vita alta, vita bassa, vita medio alta, insomma, a 4,95. Poi abbiamo sconti del 65%, fino al 65%, quindi a partire da 2,50 euro fino a un massimo di 5,95. Poi vediamo un'altra offerta, quindi quando stop, perché vi porto direttamente all'offerta per non farla aumentare. Allora, a pagina 38 e 39 abbiamo questa offerta. Cosa consiste nel poter scegliere di poter acquistare uno o due o tre prodotti a un prezzo veramente basso? Allora, in questo caso c'è il duo di ombretti colore sempre vero a 8,95, due prodotti 11,95, gel eyeliner super shock più il duo di ombretti colore sempre vero. Ovviamente è una tonalità scelta, una tonalità che potete scegliere per l'eyeliner sia silver o black, e poi invece questa per gli ombretti. Oppure scegliere di acquistare tre prodotti a 14,95, quindi gel eyeliner super shock, duo di ombretti e lo struccante per occhi idratante. Ve lo consiglio perché è veramente ottimo questo struccante, perché io ce l'ho e lo utilizzo. Altra offerta, sempre dedicata alla make-up, due prodotti, un blush da Flawless in tonalità Evelyn Pink, è un fototinta invisibile cremoso a 14,95. Poi, mi dimentico sempre le pagine, pagina 52 e 53 con 8,95 possiamo avere un lip gloss ultra gloss aware, a scelta sempre e un rossetto colore sempre vivo, tutti e due a 8,95. Parliamo di nail expert, quindi cura delle mani. Allora, possiamo avere il sopra smalto top coat effetto polvere di diamante a 4,95, che poi, non so se avete presente, questo è quello di là, che si chiama opale, effetto opale, un top coat effetto opale, quindi non è che cambianete, cioè hanno cambiato il peccano. Invece, con 8,95 potete avere il rinforzante 24 carati, roba del genere, 24 carati, 24 carati, un'altra roba del genere, 24 carati, 24 carati, unghie e il sopra smalto, 8,95. Con 11,95 potete avere tutti e tre, il rinforzante unghie, il sopra smalto e la penna correttiva, ottimissima. Uffa. Scusate. Ok. Sul catalogo abbiamo un supplemento, un supplemento si chiama, sì, tipo un buscolino, vedete che è al centro proprio del catalogo. E vediamo all'interno cosa c'è. Allora, con 4,50 potete avere questo set premium, che comprende un End Perfum Spray Avon Flour, acqua detergente anti-età 3 in 1 per tutti i tipi di pelle, flaccone da 50 ml di agneum, un emoliente labbra 3,6 grammi e un raffinato beauty gold, molto carino. come potete averlo? Allora, acquistate un prodotto da questo inserto e avete uno sconto, potete prenderlo a 4,50 euro. i prodotti sono appunto il siero nuovo, le creme della New Platinum a 16,95 l'1, le creme della New Ultimate a 14,95 l'1, le creme della New Reversalist a 13,95 l'1, della New Vitale a 11,95, oppure quelli della New Hydro Advance ad azione intensiva o per pelle miste a 9,95. Mentre dietro potete avere appunto la maschera quella idratante, azione rigenerante a 15,95 per poter acquistare anche beauty. Oddio, poi Avon Plus in questo catalogo ci propone i tre prodotti della Bonc'Air. Cosa sono? Allora, un sapone per le mani e la glicerina, 3 in 1 per corpo, viso e mani, ottimo, ottimo, igienizza proprio qualsiasi parte del corpo, ottimissimo. Il 3 in 1, detergente tonic idrotante, e la crema 3 in 1 per unghie e cuticolo in mani, all'Ulo Dargan, acqua 3,95, tutti questi tre prodotti, quindi ottima un'offerta. Poi abbiamo offerta due prodotti a scelta, appunto uno di questi due, per esempio due di questi, 25,95, della New, poi c'è la nuova linea, poi 7 Bru Blanca 13,95, il quale utilizza anche Annalisa, che dice Annalisa che è una delle sue fraganze preferite, una sinfone di Frippi, anche sfumata in un'armonia morbida e leggermente cipriata, che è l'essenza della purezza. Allora, potete avere profumo spray corpo e crema corpo. Parliamo sempre di fraganze, quindi abbiamo veramente le offertine. Tutti e tre, della Far Away Bella Sunset, quindi profumo crema corpo e spray da borsetta, 16,95, oppure il Far Away profumo crema corpo, spray profumato per il corpo, 16,95, oppure la Bonfemme, tutti e tre, quindi profumo crema corpo e spray profumato per il corpo, 16,95, oppure la Bonfemme con profumo e spray da borsetta, quindi 16,95. Poi c'è la Bonlook, 17,95, sia per uomo che per donna, allora per donna c'è il profumo crema corpo e spray profumato, invece per uomo c'è il profumo, lo spray e il detergente corpo, 17,95 anche. Poi abbiamo prezzo veramente wow, quindi risparmiate fino a 55%, sulle fragranze maschili e femminili. Offerte per quanto riguarda la scelta, quindi avete la possibilità di aggiungere 1, 2, 3 euro, in base al prodotto, cioè il prodotto base è questo profumo, è un dettorezza spray a 9,95 per uomo, aggiungendo 1 euro potete avere il deodorante anti-stiturale a sfera on duty men, acti, quindi pagate con 10,95. Aggiungendo 2 euro, quindi con 11,95 potete avere il profumo e il detergente per corpo e capelli extreme. Con 3 euro, quindi a 12,95 potete avere sempre il profumo e il 2,1 basso ma dopo barba è idratante. E trovate questa offerta a pagina 104-105. Altra offerta invece a pagina 116-117. Potete avere la borsetta con la vessa, anche se è una novità, quindi è sempre comunque un'offerta. Questa con le borchette, che è la cerniera e tutto, 1,7 euro e 95, 2,12 euro e 90. Altra offerta, più che offerta è una specie di regalino, nel senso che se acquistate, per esempio a pagina 120-121, due prodotti, vabbè, da pagina 120-133, scusate, avete in omaggio due campioncini della nuova fragranza, Christian Lacroix Bijou, in dei parfumi per lei e per lui. Quindi vi danno due campioncini acquistando due prodotti, appunto di gioiellini, come vedete. Molto carino. Poi invece a pagina 124-125, anche se noi già l'abbiamo vista in anteprima, acquistando l'orologio a 22,95, solo i 2,95 potete avere la collana del locchetti. Poi abbiamo gli sconti a volontà, cioè più che sconti a volontà, è una specie di completo letto, che si chiama Calda Passione Tirolese, e c'è allora, il completo letto singolo costa 54 euro, mentre il completo matrimoniale è 74. Abbiamo gli sconti a volontà dell'80%, prodotti per i capelli, due champi a scelta, 6,95, da 400 ml di Advanced Techniques, tranne questi due, che stanno a 4,95 l'uno, quindi, no, 4,50. No, quindi sempre a 195 ci possono avere niente, scusate, ho sbagliato. Poi abbiamo prodotti tipo spazzoli, a partire da 4,50 euro, come la spazzola con base a cuscinetto, non è questo, perché mi sembrava che era questo, invece no. Poi abbiamo di NaturalS, invece due prodotti, no, direttamente a 2,95, champi e 2,50 euro, champi e balsami a 2,51, gel doccia senza s1,95, prodotti per bambini, 1,3,95, 2,6,90, poi prodotti per i piedi di Foodworks, allora ordinando un prodotto, pagina 184,187, potete avere uno sconto, e potete pagare uno di questi due accessori, o il tagliaunghie, o la lima per i piedi, a 1,95. Stessa cosa ancora qui, poi prodotti a 3,95 l'uno, questi prodotti che vedete qui, poi set rosa, che mi piace molto, con 9,95 potete avere, infatti è un'offerta di nastrino della solidarietà, infatti verranno devoluti, un euro addirittura, un euro e 5, quindi pochissimo, allora c'è, un latte bagno d'otto, un bubble bath, al latte di rossa selvatica, e burro di karité, e una crema con tornocchi dell'anio vitale, un lip gloss, nella colorazione watermelon, e un block notice, 9,95 di questi prodotti, molto carina come offerta, poi abbiamo di color trend invece, due prodotti e 3,95, e moriente labbra e due ombretti, 3,95, cioè, veramente carina come offerta, poi se acquistate, un prodotto di color trend, quindi da pagina 196, quindi da questa pagina, a 201 potete avere uno sconto, di 2 euro su questo eyeliner, e lo potete pagare a soli 1,95, anziché 3,95, quindi abbiamo tutte, queste belle, poi abbiamo, vabbè, queste cose, accessori, per il pc, collezione portia, immaginata, e vabbè, poi ci sono le franze rare, le tistera, le persa, le gold, e niente, il catalogo finisce qui, spero che vi sia piaciuto, insomma, se volete vedere appunto tutto il catalogo, vi lascio il link direttamente all'album della mia pagina, e ci vedremo al prossimo video, ciao!